Allora eh buonasera benvenuti a tutti quanti eh sono eh lieto eh contento questa sera eh di eh avere qui ehm Andrea Robiglio un caro amico eh un collega ehm Robiglio Andrea Robiglio è eh professore insegna eh storia della ehm filosofia medievale del rinascimento all'università di Leuven e sarò molto breve nel presentare Andrea perché come si diceva prima in questi casi è meglio fare la solita preterizione comunque qualche parole è giusto spenderla Andrea ehm dopo aver ottenuto il suo ehm dottorato il titolo di dottore di ricerca a Milano presso l'università eh cattolica eh eh è stato eh attivo ha insegnato presso vari eh centri eh in giro per il mondo a Niemegen eh Fribourg, Freiburg in Bresgau, Notre Dame in negli Stati Uniti, Groningen, Parigi e mh è eh membro di eh vari comitati di redazione eh di varie riviste e nonché membro di eh varie società scientifiche del del board di varie società scientifiche la CPM, Sofime, eccetera, della CISP ma eccetera e coeditor di Mediterranea International Journal on Transfer on Transfer of Knowledge e che dire eh lui mi sta facendo cenno insomma di ridurre all'osso allora io dico che i suoi interessi sono vertono chiaramente sulla filosofia dal medioevo alla modernità eh oggi chi ha seguito la lezione precedente ha capito che si occupa non soltanto di storia della filosofia ma degli intrecci tra la storia della filosofia la storia del diritto e la storia della letteratura uno specialista di Dante del Dante filosofo ma non solo è uno specialista del concetto di nobiltà nel medioevo ha esordito con esordito ha scritto due importanti volumi su Tommaso d'Aquino eh che cito l'impossibile volere Tommaso d'Aquino i tomisti e la volontà la sopravvivenza e la gloria appunti sulla formazione della prima scuola tomista e ha scritto tante altre cose cito semplicemente due lavori recenti eh su su Dante eh Dante filosofo romanzo eh e un articolo uscito per la filosofia per la rivista di filosofia neoscolastica e e poi eh insieme a ehm Pietro Rossi eh oltre l'amore dell'apparenza la questio di acqua e terra a Verona settecento anni dopo ecco mh l'ho fatta molto breve quindi io cedo adesso la parola ad Andrea che ci parlerà eh terrà una conferenza dal titolo con con voce propria lettura umanistica microstoria ed identità in filosofia prego Andrea. Grazie Alessandro eh sono molto grato agli organizzatori di questo seminario per avermi invitato grazie per questa generosa presentazione e eh il mio intervento non sarà che una conversazione per cercare di spiegare questo titolo un po' misterioso che a prima vista potrebbe apparire scarsamente intelligibile con voce propria lettura umanistica microstoria identità e non è un intervento in quanto medievista fatto come specialista di una disciplina ehm particolare anche se farò ricorso ad esempi a testi eh che fanno parte di della mia area di ricerca. Inizierò eh in un proemio cercando di eh stimolarvi a visualizzare due scene due momenti spero di non essere del tutto infelice di riuscire a suscitare qualche elemento perché queste due immagini iniziali sulle quali brevemente mi soffermerò in maniera preliminare potranno poi collegarsi in qualche modo al tema e aiutare a mettere insieme le varie componenti che eh verremo trattando. Inizierò quindi con una riflessione su un problema eh che io nell'attività attuale di docente universitario incontro una eh difficoltà o comunque un aspetto non scontato da parte degli studenti giovani ricercatori a eh redigere riassunti e allora userò il riassunto come punto di partenza per una riflessione che parte da un problema concreto che ho innanzitutto riscontrato io stesso e si allargerà su problemi che toccano un po' tutti e parlo parlerò di una eh una nuova startup che ormai è una delle startup di maggiore successo in Europa presumo che molti dei qui presenti la conoscono la conoscano Blinkist eh se non la conoscono vi parlerò di questo e eh scaricherete l'app questa sera stessa e quindi sarete informati e dopo di eh questo esempio che mi permetterà di indulgere su alcuni aspetti legati alla eh alle tecniche di lettura come si legge alla storia della lettura mi concentrerò su un aspetto particolare che è anche al centro di una serie di pubblicazioni negli ultimi cinque anni eh un po' come parte di un movimento più ampio che ha dapprima coinvolto il cibo poi ha coinvolto altre dimensioni e che va sotto l'etichetta di slow reading lettura lenta e cercherò di mostrare come il tema della lettura lenta sia una chiave per capire cosa si vuole intendere con l'espressione lettura umanistica come la lettura umanistica implichi un aspetto di eh approccio micro storico e come ciò abbia un impatto sul problema dell'identità identità personale ma anche identità in un senso più ampio. Inizio allora il mio parlare con questa con questo prologo come vi dicevo in cui cerco di evocare due scene. La prima scena mi ho accorsa pochi giorni fa all'aeroporto di Bruxelles dove capito molto spesso ho visto un nuovo spazio non so se chiamarlo negozio un nuovo spazio eh senza nessun è un negozio completamente automatizzato. Vi è un percorso di entrata che si apre con un cancelletto attivato dal boarding pass. Vi è un percorso che si deve seguire senza uscire eh da dal percorso. Si possono ci sono alcuni prodotti che si possono recuperare solo a momenti di questo percorso. Vi è una cassa automatica alla fine con cui si paga. Dopo il pagamento mostrando lo scontrino si riapre il cancelletto e si è fuori. Io non avevo ancora visto di questi negozi completamente casse automatiche sì ma questo è veramente un negozio dove non vi è eh nessuna persona e mi ha fatto riflettere su eh sul fatto che il modo di muoversi in un negozio è notevolmente diverso. Questo è un negozio che per usare un termine cinematografico eh frame the customer cioè chi entra ha un percorso stabilito che è condizione per poter usufruire dei servizi. Eh a tornare indietro è impossibile fa subito scattare mi hanno assicurato io non ho provato personalmente mi hanno assicurato guai a fare questo perché scattano allarmi si chiude una serracinesca e sembra una trappola insomma. E questo mi ha fatto pensare su questo tema del framing e vale a dire su un adattamento ad una struttura che in realtà è imposta e quindi sulla trasformazione di un ruolo come quello di un cliente o consumatore che in realtà diventa un utilizzatore questo è già stato notato da chi studia problemi del dell'infosfera del rivoluzione digitale ma un utilizzatore oltretutto con una serie di scelte prestabilite. Prima scena quindi pensate a questo nuovo io è la prima volta che lo vedevo ma presumo che tra due mesi pieni di aeroporti ne saranno non lo so ma presumo che ognuno di voi prima o poi ne incontrerà uno di questi negozi nel prossimo futuro. Seconda scena porta alla memoria un'estate in cui passai del tempo con un pittore con ambizioni di essere un professionista il quale mi diede alcune lezioni di pittura e poi anche di fotografia e mi diceva come il tema oggetto sfondo fosse una semplificazione. Un pittore deve sempre tenere conto di una tria di di tre elementi il tema lo sfondo e un dettaglio che non è né del tema né dello sfondo che poi l'arte sta lì di solito si mette sfocato in primo piano che serve a dare profondità e permette al tema di staccarsi pienamente sullo sfondo e di farlo riconoscere come tema e non come alternativa complementare allo sfondo. Ecco la seconda immagine su cui vi chiederei di provare a visualizzare è questo questa triplice questa triade di uno sfondo di un se si parla di argomenti Perelman avrebbe detto il foro e il tema e poi vi è un terzo elemento che non viene tematizzato ma che deve essere presente senza il quale il tema rischia di rimanere indeterminabile o determinato in maniera arbitraria. Questa è la premessa diciamo di piccola fenomenologia portatile che lascio a tutti voi iniziamo con il problema del riassunto. È una cosa che sembra stupefacente perché uno non se lo aspetterebbe perché a livello universitario chi arriva sa leggere e scrivere anzi leggere e scrivere è ormai una competenza largamente acquisita. Mi sono reso conto della difficoltà nel redigere riassunti e soprattutto quanto più riassunto è riassuntivo tanto più la difficoltà aumenta. Se si tratta di riassumere un libro di 200 pagine in 10 pagine normalmente quelle 10 pagine danno un quadro del libro. Se si chiede di riassumere quel libro in due pagine cominciano a capitare cose stupefacenti, cose essenziali non si ritrovano in quelle due pagine altre cose secondarie hanno invece largo spazio. Se si chiede poi di trovare un riassunto davvero in uno slogan in poche righe di qual è l'essenza del libro ad esempio solo una parte minima degli studenti riesce a proporre in maniera convincente un aspetto che poi durante il discorso analisi seminariale emerge come effettivamente centrale. E questo in un'epoca dove mi permetto un riferimento bibliografico incidentale se qualcuno dei qui presenti ha letto il libro di Alessandro Baricco di qualche anno fa The Game, l'ultimo articolo sull'informazione virale è tutto sul problema del rendere aerodinamici messaggi che significa riassumerli, semplificarli, ridurli allo slogan. Per garantire l'efficienza della comunicazione il talento sta nel saper ridurre messaggi complessi a qualcosa di aerodinamico, semplice, che passa con velocità. Quindi da un lato sembra che il problema del riassunto sia essenziale come pratica anche per garantire una comunicazione efficace, dall'altro questa esperienza nella pratica dell'insegnamento. E allora già da qualche anno seguo questa start-up iniziata da un gruppo di giovani berlinesi che è diventata in poco tempo una delle start-up di maggior successo in Europa con una capitalizzazione straordinaria e che ultimamente è diventata ancora più interessante che si chiama Blinkist. Cosa fa Blinkist? Blinkist paga bene, molto bene, dottori di ricerca o postdoc specializzati in aree delle materie umanistiche per leggere attentivamente saggistica, la fiction è esclusa, e per farne riassunti calibrati secondo tempi. Cioè uno un libro può ascoltare un riassunto di un minuto, di quattro minuti, di sei minuti, a seconda di quanto vuole stabilire. Questi riassunti sono straordinariamente ben fatti e accurati e effettivamente danno un'idea più che affidabile della pubblicazione riassunta. Ed è straordinario che questa attività trovi un successo così straordinario nell'ambito imprenditoriale. Questa attività è diventata ancora, diciamo, ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi con la diffusione del più celebre, che adesso è giunto alla quarta versione, ne avrete tutti sentito parlare, il ChatGPT, ma vi sono anche degli altri, diciamo, concorrenti, cioè dei programmi di produzione di testi che fanno correzione grammaticale e tra le tante attività fanno anche riassunti, cioè si può inserire un testo e chiedere che questo testo venga riassunto. Ora, il riassunto era una delle attività in cui questi programmi dimostravano maggiori debolezza. Mentre sono molto efficaci in alcune cose, nel riassunto alcuni testi venivano riassunti bene, ma testi, per così dire, un po' asimmetrici. Testi, cioè, dove magari tutto il messaggio è contenuto solo in una parte e c'è tutta una premessa che invece va, per così dire, scontata sul resto, non riuscivano. Allora, tutti i dati che gli esseri umani hanno riassunto, sono ormai centinaia di titoli, per Blinkist sono attualmente utilizzati per allenare questo programma a imparare a riassumere in un modo sempre più simile e idealmente indistinguibile dalla maniera umana di fare riassunti. Io trovo questo molto interessante. Interessante è il fatto che un programma molto elaborato, efficacissimo nel scrivere testi, nel tradurre con grandissima qualità, anche distinguendo le citazioni, eccetera, fosse fragile nell'aspetto di fare un riassunto. Probabilmente perché nel fare riassunto, in qualche modo, è più difficile imitare l'aspetto di comprensione e anche di scelta, no? L'ir et l'ir, di scelta di ciò che quel testo racchiude davvero. Un testo più burocratico, fatto in parti, è più facile da riassumere, si tolgono le sequenze ridondanti e si riduce, quindi il programma funziona abbastanza bene su questi testi. Testi saggistici più complessi o più sofisticati. Adesso staremo a vedere con questo training di Blinkist come funziona. Ma il grande spot della start-up per vendere il suo prodotto è oggi noi desideriamo sapere di più, ma abbiamo meno tempo. Quindi cosa vi offre Blinkist? Vi offre la possibilità di sapere ciò che questi importanti libri, la lista è davvero molto impressionante. Dicono, saperne il succo, c'è l'aspetto sociale, ne potrete parlare a cena con competenza, ma c'è anche l'aspetto di informazione professionale e nello stesso tempo guadagnare tempo. Si può ascoltare mentre sono in forma anche di audio. Questo aspetto della necessità di guadagnare tempo e del rapporto tra tempo e la lettura mi ha portato ad approfondire un po' cosa si pensasse su questo tema decenni fa, quando ancora non vi erano ben prima della rivoluzione digitale. E ho trovato alcuni dati che ora ripercorro brevemente prima di passare al corpo della conversazione che sarà su un tema legato, ma diverso in parte più ampio che quello della lettura lenta. Ora, un testo che è stato considerato una sorta di testo di riferimento in moltissime colleges, moltissime università americane nella prima metà del secolo, fu il testo di John O'Brien, Silent Reading with Special Reference to Methods for Developing Speed, pubblicato a New York nel 1922. Questo testo, a parte fare una breve storia dell'evoluzione della lettura, abbastanza semplificata, in cui vede la lettura silente, vi è il famoso passaggio di Agostino, che tanti ricorderanno, come un progresso. Voi sapete che questo cliché secondo cui, ma qui parlo di fronte a specialisti dell'antichità, l'idea che prima di Ambrogio non esistesse la lettura silente è stata ampiamente contestata, vi sono anche fonti, stesso Alessandro Magno, secondo Callistone, impressionò i suoi generali perché senza muovere le labbra lesse una lettera lui inviata. Comunque sia questa polemica, il libro inizia con questo sfondo, diciamo, anche uno non si aspetterebbe di avere Sant'Ambrogio citato in un testo che diventa un classico per i pedagogisti negli Stati Uniti, e poi vede nella necessità di aumentare la velocità una delle necessità per lo studio moderno. Sia nelle classi inferiori e sia nello studio professionale più avanzato, l'importanza della lettura rapida è decisiva. Ci saranno molti manuali di lettura rapida che verranno scritti dagli anni 30 agli anni 50. Io ho guardato solo la situazione nordamericana perché è innegabile che in quegli anni rappresentava per questo settore una punta avanzata della ricerca e soprattutto la cosa che viene vista come un ostacolo a questo sviluppo è il legare troppo la lettura all'aspetto uditivo, alla voce. L'idea che tanto più la lettura rimane anche in forme quasi impercettibili, legata ad una voce, ancorché voce interiore, una sorta di dizione interiore, tanto più questo crea un ostacolo alla rapidità. La rapidità deve ammutolire la voce del lettore che deve essere solo più una lettura schematica, poi vi saranno tecniche, lettura obliqua, eccetera. Ma qui questo libro è più teorico, non entra su queste applicazioni, ma insiste su questo fatto. Silente qui vuol dire che silenzia, non che non c'è la dizione vocale aperta, ma che proprio non... E vi leggo solo un pezzo perché questo è divertente. In un testo del 38, in cui questo improvement of reading, questo è un testo più pratico, ma sempre di natura accademica, permettete di leggere, perché quando l'ho lessi per la prima volta ho trovato una specie di tortura che oggi verrebbe condannata se venisse applicata a giovani studenti e nelle classi elementari, ma che qui invece veniva presentato come nuovo metodo per insegnare a leggere. A simple and effective means of bringing about the result, il result è migliorare, accelerare, silenziare, is to have the child put two fingers into his mouth, using them to separate the upper and lower teeth and to hold down the tongue. Nobody can articulate words with the mouth hanging open. If the child, through force of habit, moves his jaws to articulate, he bites his fingers. Quindi questa della tecnica delle dita in bocca sembrava la più efficace perché se uno non la rispettava si faceva male e imparava e applicava. Questo non è, io ci rido e penso, crei anche un po' la stessa reazione in tutti voi, questo è un manuale per l'insegnamento, un manuale pedagogico che rappresentava la punta avanzata della scienza nel 1938 negli Stati Uniti. E quindi questo ci dovrebbe dare una certa distanza quando viene presentata un risultato di una recente ricerca empirica che dà indicazioni perché forse vista tra trent'anni con un'altra prospettiva ci potrebbe magari far sorridere più che altro. Bene, il tema dell'accelerazione della lettura e del togliere la voce, adesso forse si comincia a capire perché c'è questa parola con voce propria, ci porta ad una dimensione della lettura che è invece presente in questo dibattito a cui ho fatto cenno inizialmente e in cui ora entriamo in media stress dello slow reading. La letteratura è veramente ampia, mi limito a citare quegli scritti che da un lato fanno già una rassegna e un regesto di letteratura precedente e dall'altro hanno il merito di portare questo a livello di analisi filosofica. Uno è il testo di una filosofa australiana, tuttora attiva, Michelle Boulos-Walker, Slow Philosophy Reading Against the Institution. Il titolo è Slow Philosophy ma per due terzi del libro è sopra il problema, è dedicato al problema del slow reading, dove lei addirittura arriva a parlare in una parte del 2017, Bloomsbury, London, e arriva a parlare addirittura di un MAIC, Military Academic Industrial Complex e quindi vi è questa questa sorta di idea che lo slow reading rappresenta una resistenza ma al di là di questo aspetto più diciamo militante posto all'inizio vi è poi un'analisi della letteratura crinica. Vi è poi un libro di Marianne Wolf tradotto anche per i tipi di vita di pensiero nella sua forma originaria Reader Come Home. Marianne Wolf ha fatto ricerche, lei viene dagli studi letterari ma si è poi dedicata a un dottorato a ricerche in neuroscienze e questo libro è sul problema della memorizzazione legata alla lettura e per dirvi in sintesi il riassunto di questo libro. Il libro dice che vi è un tipo di memorizzazione profonda che avviene solo a certe condizioni. Una delle condizioni è una lettura sostenuta senza interruzioni e il periodo senza interruzioni deve avere una durata media statistica almeno di 40 minuti. Sotto questo periodo senza istituzione vi è memorizzazione ma non quel tipo di memorizzazione che viene considerato come deep deep reading. E poi Marianne Wolf ha continuato a scrivere su questi temi e questo è un libro che soprattutto per diciamo i risultati della ricerca nelle neuroscienze mi pare utile da un punto di vista divulgativo. Da un punto di vista più storico ancorché ormai pubblicato dieci anni or sono Harvard University Press nel 2013 un libro di Isabel Hofmeyer curato da Isabel Hofmeyer Gandhi's Printing Press. È un libro specifico perché parla dell'attività di Gandhi in Sudafrica quando ha fondato una casa editrice. Una cosa molto specifica ma utilizza tutti i testi le riflessioni di Gandhi eccetera sul perché ha fondato la casa editrice qual era lo scopo e vi sono una serie di autori anche molti indiani e il tema del dello slow reading questo per il giovane giurista Gandhi come fondamentale per creare qui cito Gandhi citato da Subramayan per creare una comunità di lettori in cerca della verità truth seeking readers e questi lettori attraverso solo attraverso un tipo di slow reading che non viene in realtà definito ma in qualche modo è la linea guida di questa printing initiative che è la condizione per trovare una identità comunitaria all'interno di un'identità nazionale che in realtà è di tipo coloniale che non riconosce quell'identità quindi il reading mettere a disposizione testi approntati in un certo modo come un'azione politica le ha creata un problema identitario molto forte. Questo questo libro non dice molto sul tema della lettura delle specificità dell'atto di lettura ma integra gli altri due che ho citato proprio per questo aspetto di applicazione anche se il caso è puntuale ma poi verremo al tema della microstoria come i casi puntuali in realtà sono sempre quelli decisivi ci aiuta a vedere un legame che in queste altre pubblicazioni invece non viene mai messo ad esponente. Ora il tema dello slow reading vi è un articolo molto interessante in uscita in un volume che sarà intitolato slow reading and the shock of recognition di Carlo Ginzburg che proprio riflette sul tema della lettura lenta citando un famoso frammento di Aurora di Nietzsche dove Nietzsche parla della lettura lenta. Vi sono due spunti di Carlo Ginzburg che vorrei qui richiamare rimandando poi il lettore a questa pubblicazione per l'analisi di dettaglio. Primo la lettura lenta non va definita come una semplice contrapposizione ad una lettura rapida in altre parole non è il tempo rallentato che fa la lettura lenta ma la lettura lenta è un modo alternativo di leggere in cui si instaura un diverso rapporto al tempo in cui soprattutto lo stesso atto della lettura prende una dimensione duale secondo una volta all'interno di questa lettura lenta che rimane per ora da definire il punto non è di rifiutare la lettura rapida i riassunti eccetera ma è di trovare il giusto ritmo tra i due anzi la condizione della lettura lenta. Ginzburg usa un esempio autobiografico di seminari suoi con Deglio Cantimori alla normale di Pisa. Deglio Cantimori che in una lezione riassumeva una letteratura uno status questionis raccolto in dieci monografie e poi passava altre dieci lezione su una pagina di un testo quindi questa alternanza alternanza è solo l'una e condizione dell'altro il passare una settimana su una pagina diventa proficuo solo se si crea un'enciclopedia che richiede anche la lettura rapida. Quindi questo è un primo elemento non si tratta di contrapporre rapido a veloce. Slow qui va inteso in un senso di appunto alternativa così come lo slow food non è tanto una questione di mangiare lentamente ma di mangiare cose diverse prodotti in maniera diversa e qui la stessa cosa si tratta di leggere cose diverse scritte anche in maniera diversa piuttosto poi uno le può anche leggere in gran fretta non è quello il punto. quindi questa riflessione di Carlo Ginzburg complica un po' le cose in una maniera costruttiva credo evita contrapposizioni o polarizzazioni dialettiche lento contro veloce eccetera e ci aiuta a vedere questo come un ritmo come un'alternanza come un moto in cui velocità e accelerazione o rallentamento sono momenti di una funzione temporale diversa. Viene in mente a noi filosofi un passo dell'apologia di Socrate dove Socrate parla della morte e del male proprio qua nella la sua risposta alla ringa dei giudici dice perché il male è più rapido della morte ma siccome io sono lento e vecchio io mi faccio prendere dalla morte prima che dal male e quindi questa idea che vi è sempre questa complessità della 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 lettura ora il tempo se lo si vi sono anche pagine su cui non insisto ma sono passi molto belli nelle permiste bemerkungen di Wittgenstein proprio sulla lettura sul ritmo lentezza accelerazione come l'una e condizione dell'altro e Wittgenstein ricorre all'esempio della musica dove il problema non è rapido o lento il problema è e qui memore della teoria musicale fresco baldi del giusto tempo cioè il problema è avere il tempo giusto e non è Wittgenstein che parla di questo ma è un tema che appare già nel rinascimento con le istituzioni armoniche di Zarlino e altri il tema cioè del tacto vi sono dei significati di del termine tactus al di là di quello della denotazione diretta che sono molto interessanti uno è il tatto come la battuta o più che la battuta musicale la parte di tempo all'interno della battuta ad esempio in un tempo in tre quarti un movimento è chiamato tatto da Zarlino ma nello stesso tempo il tatto è anche senso delicato della proprietà cosa poi voglia dire sarà tutto da vedere ma qui è chiaro che si sta parlando di qualcos'altro di una proprietà legata sempre perché il trattato si sta parlando di musica allora questo problema della lettura mi ha portato a confrontarmi con pubblicazioni che mettono a tema proprio questo e vorrei prendere come confronto per proseguo ed entrare nella fase conclusiva di questa conversazione un un testo di un famoso filosofo della musica scomparso alcuni anni fa che credo sia noto sicuramente tra alcuni dei partecipanti dei presenti qui Peter Kiwi Peter Kiwi ha scritto importanti cose sulla filosofo della musica e sull'estetica in generale un filosofo analitico questo libro è The Performance of Reading An Essay in the Philosophy of Literature Kiwi nelle sue nei suoi scritti più direttamente dedicati alla filosofia della musica aveva focalizzato su interesse sulla performance e si era posto il problema se vi era un elemento autoriale creativo nella performance si può dire che vi è un Verdi di Mutti e un Verdi di Giulini e a quali condizioni se è sempre Verdi che si riconosce e la musica come si legge sicuramente un musicista legge un musica scritta su un pentagramma ma la esegue la sta anche leggendo e ogni interpretazione diventa una lettura della musica ora nel caso della musica questa dialettica tra l'autore che scrive il pezzo e l'autore che lo interpreta è abbastanza evidente è facile da seguire è molto meno facile da seguire in una lettura di un testo se io dico io ho letto Manzoni c'è il Manzoni di Palazzo e il Manzoni di Robiglio perché abbiamo letto tutte e due e Kiwi si spinge fino a dire che non solo per un problema di economia ontologica perché gli enti non sono da moltiplicare al di là della necessità ma anche per un problema di esperienza fenomenologica da descrivere con appropriate categorie se si è coerenti fino in fondo si deve applicare anche alla lettura quello che si fa più comunemente per la musica quindi un testo scritto è in qualche modo registrato nella forma stampata ma non è lì il testo dei promessi sposi non è in quel libro che si mette nello scaffale ma è solo nella performance di chi lo legge e questa performance è impossibile non entro adesso nel dettaglio dell'argomento dato da Kiwi senza un elemento uditivo la performance del libro letto nel caso musicale è evidente con un'evidenza da spaccare gli occhi ma è qui l'applicazione al testo scritto che è meno ovvia e che dà a pensare quando leggo io posso stare silente come l'ambrogio intravisto dal giovane agostino ma in realtà mi ascolto c'è un aspetto di uditivo c'è una voce del testo che io riconosco ed è anche la voce della mia lettura della mia performance di quella attualizzazione lì del testo che è diversa da un altro ma ovviamente la fedeltà a quel testo fa sì che i contenuti se tu leggi promessi sposi o se li leggo io un poema contenuti si riconoscono così come si riconosce la stessa sinfonia o la stesso motivo ma tuttavia sono due performance distinte eh e questo eh eh Kiwi non si pone il testo è tra l'altro di eh quindicina d'anni fa non si pone quei problemi da cui noi siamo un po' partiti eh degli eh del problema della lettura dell'invito alla lettura silente dell'accelerazione della lentezza e tuttavia mi pare che questo sia un elemento che eh ci dà alcuni eh strumenti teorici che io ho solo accennato ma per così dire ho indicato qual è la direzione per eh pensare alla lettura in un in termini appunto più complessi ora eh mi permetto di fare una piccola digressione rapidissima sul testo di un filologo francese Edouard Maier era un grande romanista eh francese fondatore con Gaston Paris dei Romagna grande rivista che esiste tuttora famoso anche perché fu uno di quelli della perizia eh calligrafica che scagionò Dreyfus persona tra l'altro anche dimostrando un coraggio non da poco in quel contesto prendere quella posizione fu un eccellente editore di testi medievali e fece un'edizione di un romanzo d'avventura che si chiama Les Coups Romand d'aventure un'edizione del 1894 leggendo la prefazione a questa edizione e voi sapete eh quanto cosa vuol dire fare un'edizione sicuramente vuol dire leggere il testo perché lo si mette insieme lo si ricostruisce e lui fa una sintesi delle fonti eccetera evita di pronunciarsi su alcuni aspetti diciamo ideologici più del messaggio e si scusa con questa eh con questo disclaimer je n'ai pas eu le loisir et le temps de lire preablement le poème io quando ho letto questo pezzo nella prefazione la presa in giro cioè ha fatto l'edizione ci ha passato anni ha composto un testo adesso dice io vi dico le fonti eccetera però per un'interpretazione ehm non chiedete ho bisogno di tempo perché non l'ho ancora letto prealablement qui sicuramente vi è un'idea di lettura su più piani complessa perché se uno lo prende in senso letterale è calambù cosa vuol dire ho fatto l'edizione ma non l'ho letto anzi si potrebbe dire che certi testi li leggono solo gli editori critici nessun altro li legge ma loro bene o sì e in realtà questo ci porta a riflettere ad una pratica che qui non è tematizzata ma che il grande filologo in qualche modo aveva presente di eh un livello di lettura che eh guarda al testo in una sua unità e eh richiede una percezione complessa ma in fondo non è questo anche un problema ben presente dai tempi di Aristotele eh percepire il tempo perché noi non abbiamo un senso che ci dà un tempo il tempo sempre richiede eh i sensi interni ma richiede anche eh il gioco dell'immaginazione richiede la proiezione il tempo non si può percepire io percepisco istanti percepisco battute ma come faccio a dire se il tempo è giusto se ho percepito solo delle battute non ho mai il tempo per dire che il tempo è giusto devo avere un livello di percezione di ordine superiore e quindi nella lettura potremmo dire vi è una lettura che segue il testo passo a passo ma vi è anche una lettura che ha una percezione di tipo diverso e che quindi implica un tempo diverso nella lettura e veniamo quindi eh se ho ancora cinque sei minuti dieci massimo alla alla chiusa perché questo credo che adesso almeno i termini del titolo appaiano un po' meno misteriosi eh con voce propria lettura umanistica micro storia e identità e mi è stato chiesto di parlare di dare una prospettiva su quello che è una caratteristica della filosofia contemporanea io avevo proposto a chi mi aveva invitato di parlare un po' di questa ehm oppure moda se la vogliamo come è così dell'Italian theory dell'Italian philosophy che si nota all'estero abbastanza abbastanza comunemente vi sono nuove collane dedicate alla filosofia italiana fondate negli Stati Uniti che hanno già portato alla traduzione eh di di diversi testi eh recentemente è stato tradotto Parison eccetera ci sono altre iniziative ci sono readers veri e proprie e il punto è ma cosa contraddistinguerebbe questa italianità cioè è solo italiana perché tradotta dall'italiano e fin lì mi pare che sia una cosa puramente no c'è la pretesa che in qualche modo questa filosofia italiana abbia delle caratteristiche salienti che si trovano in una mistura che come tale assente altrove e quindi la filosofia italiana non sarebbe solo portatore di contenuti ma portatore di uno stile in filosofia studiosi di Simmel e che ben conoscono le complessità del di questa categoria e riferimento eh molto frequente è ad una eh caratteristica del pensiero italiano che ha nella lettura storica nella coscienza storica con cui si affrontano i testi e i problemi una eh una sua cifra e questa eh si cita soprattutto l'umanesimo più che come periodo storico un po' come categoria teorica eh una filosofia umanistica in cui non vi è un taglio netto tra ciò che è razionale e ciò che non è e un conseguente rifiuto dell'irrazionale come alieno alla riflessione filosofica ma vi è invece un farsi carico di aspetti che a prima vista possono essere bollati come irrazionalità ma che rivelano una loro logica interna eccetera 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 eh un'attenzione quindi alla tradizione eh classica e medievale ma vista in una maniera continua vivente in qualche modo e quindi alla necessità eh se ne parlava un momento fa nel seminario alla necessità di non separare mai veramente eh di fatto magari ma mai la filosofia dalla storia della filosofia e all'interno della storia della filosofia la storia di un problema dalla storia della storiografia su quel problema e questo è chiaro che se noi guardiamo a grandi eh figure del pensiero italiano è indubbiamente eh un approccio come quello di Croce non è tipico eh altrove anche se poi Croce eh fu effettivamente molto ammirato in una certa stagione e in tanti altri paesi sono stato di recente a Salamanca ho visto queste lettere eh ricevute da un amuno e le sue risposte ad un amuno leggendo Croce aveva trovato in lui però ecco questo eh questo aspetto e quindi il tempo attraverso la storia della storiografia la stratificazione del problema eh prima che eh il problema stesso in altri termini un problema non può mai essere studiato senza tutta la stratificazione che ci ha portato oggi a porlo come problema storiografico è abbastanza ovvio per chi si è formato in Italia per chi ha letto la letteratura non è per nulla ovvio eh nello studio della filosofia fuori d'Italia e questo nei casi migliori poi sotto questa eh diciamo eh etichetta di lettura e filosofia umanistica si passano anche degli esperimenti abbastanza eh così avventurosi eh cui la libera associazione di idee prende il posto dal studio responsabile eh dell'evoluzione delle categorie ma è indubbio che questo è un aspetto penso a Calcagno in Canada che almeno i rappresentanti più eh consci e più avvertiti cercano di portare avanti ora non viene non si mettono insieme questo di questa riflessione sulla vitalità del pensiero italiano per la riflessione attuale contemporanea ma eh con quello del slow philosophy ma a me pare che le due cose si possono invece unire con una certa eh con profitto eh da un lato vi è una un approccio che per certi versi eh resiste o appare inattuale rispetto a questa idea del del progresso della lettura del sviluppo della velocità come una sorta di sviluppo unidirezionale che darebbe il senso per e eh se così fosse è vero è che la lettura umana diventerebbe molto presto obsoleta ma pare invece che proprio la lettura umana legata alla eh cattura eh all'elaborazione del significato sia quella che non è possibile eh sostituire è possibile in maniera succedanea ma eh del tutto eh disomogenea imitare ma non sostituire e quindi eh questo è forse se guardiamo alla filosofia eh contemporanea un aspetto dove il pensiero italiano e non solo quello recentissimo paradossalmente mi verrebbe da dire senza voler sembrare polemico quello meno recente cioè non sto pensando tanto alla filosofia italiana tradotta come Italian Theory di oggi ma ai ai grandi nomi della filosofia e anche della storiografia italiana non è un caso che Carlo Ginzburg eh da noi viene catalogato come uno storico ma in questo discorso può entrare in prima persona come voce filosofica oltretutto filosoficamente attrezzata ma è anche vero che la storiografia italiana nei suoi rappresentanti è sempre stata una storiografia filosoficamente attrezzata e anche questo è una eccezione eh eh studiosi grandi studiosi del pensiero antico esistono in molte parti eh ma studiosi del pensiero antico con una competenza filosofica spiccata come ad esempio poteva avere un momigliano non sono affatto eh moneta corrente e quindi questo aspetto eh lo volevo lo volevo così eh ricordare e portare adesso eh il po' alla conclusione con il riferimento alla microstoria perché è indubbio che eh un problema ovvio negli studi di storia per chi eh per chi studia e per chi ad esempio deve preparare una ricerca di master o di dottorato e per chi conduce ricerche in un settore un'esperienza che tutti noi abbiamo è quello dell'esplosione della lettura della letteratura specialistica campi anche molto delimitati eh facevo l'esempio eh con un collega americano qualora ci fosse una persona intelligente capace a leggere rapidamente che abbia anche usato questi manuali degli anni venti appreso bene le tecniche e di buona salute eh un po' come Napoleone per cui basta dormire tre ore per notte con gente che gli prepari il cibo e che non debba fare altro questa persona lavorando ininterrottamente al meglio delle sue forze non sarebbe in grado di leggere la letteratura pubblicata annualmente su Dante solamente in lingua inglese cioè proprio impossibile e questo è solo gli studi su Dante non stiamo parlando eh la letteratura romanza o la letteratura medievale stiamo parlando di un autore questo è un dato di fatto che non era così eh cinquant'anni fa è così ora allora tutto questo discorso sul bisogna ignorare tutto mettersi a leggere lentamente e quindi diventare irresponsabili con la letteratura critica perché come si fa a scrivere o pretendere di contribuire se non si è guardato io credo che eh l'insegnamento e ancora una volta eh penso a Carlo Ginzburg per il livello di ehm sottigliezza in cui ha condotto queste riflessioni l'approccio micro storico mi pare eh estremamente efficace eh perché l'approccio micro storico non significa affatto obliterazione dei grandi problemi o eh incapacità di vedere the big picture al contrario la condizione perché la micro storia non diventi un'aneddotica insignificante è proprio la capacità di dominare lo status questionis ma di indagarlo per problemi per così dire differenziali che come dei test reattivi facciano emergere di volta in volta i problemi che vogliono eh la micro storia adesso è sotto attacco probabilmente non viene eh seguito questo ma vi è tutto un dibattito tra gli storici essenzialmente su global history eh Francesca Trivellato che insegna adesso all'istituto di Princeton ha pubblicato un numero monografico di una rivista proprio su eh is there still a future for micro history e stranamente diceva Italian micro history adesso che dico cioè questo è riconosciuto internazionalmente come un approccio italiano viene deriso eh per lo più o criticato perché è un approccio insomma adesso che siamo nell'epoca dove bisogna fare una global history che senso ha eh fermarsi su un autore su un problema e non potrò sviluppare questo mi fermo qui però credo che sia a questo punto chiaro il tema dell'identità identità italiana se volete passare questo termine anche se è un'identità italiana declinata in senso prettamente accademico nella storia della filosofia il problema della micro storia come approccio eh capace di superare al limite almeno in voto certe sfide del eh del mondo contemporaneo e questo aspetto della lettura umanistica che eh non è una eh un tornare indietro ma è un capire fino in fondo le implicazioni di quella lettura che porta alla luce senza appiattirla e mantenendo così eh la capacità di leggerla eh diacronicamente la stratificazione di significati la loro evoluzione e questo mi pare sia un plesso di problemi che eh sui quali vi è una letteratura specifica ma che mi pare salvo migliori giudicio non sono stati uniti assieme finora e che proprio portandoli in questa unione possono offrire qualche spunto utile per tutti noi grazie per la vostra attenzione grazie Andrea per questa interessantissima eh relazione che quindi richiede per lo meno due persone che giustiscano il e quindi eh no davvero grazie per ricca di spunti anche eh di prospettive molto diverse e quindi questo credo che favorirà anche eh gli interventi io eh qualche idea ce l'ho però cedo prima la parola no no vai tranquilla no eh allora forse ehm allora tu ehm hai fatto riferimento a questa eh prospettiva di Kiwi no? Se ho preso bene nota il testo scritto non è nella forma stampata ma è nella performance di chi lo legge ora eh domanda banale forse sul piano storico qualche esempio eh che secondo te se tu condividi poi questa posizione no? Perché la riferivi ma se esiste qualche esempio storico qualche no? Che potrebbe rappresentare bene questa concezione del del testo che funziona nella misura in cui viene declamato eh se capisco bene diventa altro dal testo scritto. Eh eh grazie per questa domanda perché permette anche di chiarire cose che eh a causa eh della fretta eh si sono un po' appiattite una sull'altra. Quando eh Kiwi parla della performance non parla necessariamente e soprattutto non principalmente di lettura in pubblico declamazioni certo in un testo teatrale eh la performance è anche declamata in quel senso ma qui si riferisce a eh quella performance in cui la comprensione viene attivata. Vi è un elemento qualche modo che ci ricorda la noetica per certi versi cioè eh bisogna che la comprensione sia in ogni momento attualizzata perché si dia veramente finché in un testo è una lettera morta sia perché bisogna che ci sia qualcuno capace di leggere quel testo eccetera eccetera. Quindi la performance qui è veramente una performance eh al limite solità poi certo ci sono possibilità di interazione sociale ma tutte quelle sono conseguenze di una eh di una performance che è di natura individuale e ha questa eh questo carattere uditivo senza anche se uno ha un registratore non si percepisce nulla ma questo carattere uditivo che è un po' come ascoltare se stessi ma è anche un un vedersi un prendere distanza da se stessi. Ecco se posso permettermi di fare un riferimento un po' estemporaneo ma visto che interpreto almeno molti di quelli che sono qui è un po' un seminario che mette insieme momenti diversi. Ieri sera vi fu la proiezione di questo documentario che non avevo mai visto del duemila e quindici israeliano su Anna Arendt vita attiva e in un'intervista eh dovendo richiesta ma qual è il punto che garantisce l'umanità ecco qui stiamo parlando lei parla con una terminologia diversa parla dell'essere umano eccetera e lei per darne conto fa riferimento eh le interviste in tedesco ma lei fa riferimento ad un'espressione idiomatica inglese stop and think secondo lei l'elemento di umanità è in questa capacità di interrompere di prendere una distanza dall'azione e riflettere e questo logicamente implica una lentezza implica un'interruzione eh ma uno potrebbe pensare anche a come il tema della conversazione di origine anche questo antico e poi rinascimentale viene declinato nella parte storica di eh Varaito un metode di Gadamer dove la conversazione non è un flusso di scambio ma è proprio questo interrompere e questo sempre spiazzare ed è grazie a queste interruzioni che eh ci si rende conto ad esempio che si stava seguendo un cliché che e magari si adotta un nuovo cliché ma in questa adozione del nuovo cliché vi è già uno scarto quindi la performance per Kiwi è questo spazio di coscienza storica eh che si sviluppa in questa eh confronto col testo dove indubbiamente vi è un aspetto di tempo necessario ma soprattutto più che di tempo di condizioni di possibilità che lo rendono possibile ad esempio una sospensione dall'azione anche condizioni psicologiche una situazione di ansia o una situazione di permanente eccitazione non rendono quello possibile se andiamo a vedere sul piano pratico uno legge eh i vittorini eccetera e ci sono oppure il vecchio e sempre affascinante questo libro di Ivan Illich dedicato alla lettura nel medioevo e uno vede quanto ci fosse coscienza di questo eh evitare si direbbe oggi avere la gioia di disconnettersi eh cercare spazi e poi questi spazi possono anche essere ridotti ma devono comunque avere un minimo pervenire a Marianne Wolf se sono spazi di dieci minuti e come non ci fossero devono avere la possibilità di rendere attuale questa esperienza senza la quale quindi Kiwi pensa performance in questo senso davvero non nel senso del declamare poi quello ci può essere però eh ci può essere un declamare automatico che puramente e ci può essere il declamare dell'attore che prima ha letto ha compreso e quindi decide come leggere il testo e lo declama secondo delle intonazioni che magari sono diverse da quelle di un altro attore ma che la lettura automatica non potrebbe avere perché non ha criterio per averlo sì io in realtà rivestirò anche il ruolo di valletta facciamo venire chi chi vuole fare le domande ho il gelato apposta ehm avevo una domanda mi permetto visto che per ora ho il microfono in mano mi sembra che riportandoti sul terreno che ci accomuna insomma no eh cioè eh la la siamo ricercatori di storia di filosofia medievale che è tutt'altro che una microstoria in quanto sono dieci secoli ehm e tuttavia forse la nostra specializzazione è proprio fare microstoria ma per le ragioni che tu stesso hai detto qui e prima nella masterclass perché ci hai anche spiegato che eh fare storia della storiografia filosofica implicherebbe su un certo tema su una certa questione andare a sviscerare anche studi scritti appunto a partire dall'ottocento no? Ehm quindi non non dar per scontato che ciò che è stato scritto in un'epoca così lontana da noi sia ormai superato eh e ovviamente richiede tempo dunque l'esempio di eh scrivere su Dante non basterebbe eh appunto una vita per leggere tutto ciò che è stato scritto allora mi verrebbe da dire che la lettura lenta è ciò che effettivamente dobbiamo fare per avere una un buon livello poi di produzione scientifica e quindi siamo costretti ad una microstoria in quanto se vogliamo leggere lentamente a leggere bene dobbiamo per forza occuparci di una piccola porzione di di storia e questa queste due cose insieme forse ma soprattutto la seconda perché non ha detto che la prima caratterizzi ehm mi sembra tipico dell'italianità no? Cioè è quello che dicevi tu che spesso siamo un po' visti siamo un po' canzonati perché appunto anziché la storia globale facciamo la microstoria ehm ecco questa era un po' la riflessione che ricavavo dal eh dalla tua osservazione ma ehm e quindi dimmi se ho capito se secondo te le tre cose stanno insieme così cioè se parte dell'italianità un po' su questo volevo eh riportarti consiste proprio in queste soprattutto nel nella microstoria ma tu in un saggio che hai condiviso e poi comunque faremo girare anche gli studenti eh che hai scritto ehm per se capisco bene il bollettino del 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 dipartimento di di Lovagno hai anche citato eh Remo Bodei che dà eh tre caratteristiche dell'italianità e ehm alcune sono già immerse prima nelle orari nell'orario precedente ad esempio quando citi gli storici come Momigliano eh Muratori quindi la narrazione una cosa tipica insomma della della dell'italianità eh sarebbe in filosofia sarebbe comunque anche questo contributo degli storici che narrano eh un po' forse la storia intellettuale che c'hai anche di cui ci ha parlato oggi. Un aspetto che mi ha colpito che Bodei mette in luce è quello della filosofia civica cioè che in Italia ehm ci sia stata insomma una certa italianità perché eh si sia scritto ehm per i dotti ma non per gli specialisti no? Eh ecco volevo chiederti ma forse raccogliamo anche le domande potrebbe essere un criterio se potevi ritornare su questa italianità e in rapporto alla microstoria e a qualche caratteristica in più vista parlavi di Italian Theory. Innanzitutto torno su quell'articolo della eh Leuven Philosophy Newsletter che eh l'annuario dell'associazione degli alunni che sono un po' in tutto in tutto il mondo no? E e come è nata? Ehm il decano eh mi chiede ah scrivi qualcosa sull'Italia ad esempio eh tutti amiamo il cibo italiano eh perché non parli dei ristoranti italiani in Belgio? Allora il decano mi ha visto irato e ho detto tu sei liberissimo da andare nelle pizzerie di quarta categoria italiane che si trovano in Belgio e eh ti lascio io lavoro qui non come pizzaiolo ma come professore tu collega quindi se vuoi che io parli dell'Italia parlo della filosofia italiana se vuoi parlare della pizza e di altre cose quindi c'è un intento polemico all'origine di quello come dire eh qualcosa da insegnare ce l'abbiamo non solo eh su ehm su queste attività meritorie come sono quelle del della cucina e e eh siamo partiti sono partito siamo da questo articolo che Remo Bodei aveva redatto per un'opera che io trovo eh problematica da un lato ma molto suggestiva questo eh eh diccionare des intraduisibili eh di eh Barbara Cassin perché effettivamente c'è il problema del transfer no cos'è una traduzione? È un transfer non solo da una lingua all'altra ma da spesso una disciplina all'altra e e comunque da un un quadro ed è un tema che io trovo estremamente attuale quello del transfer ora a me pare che eh per ragioni varie eh e senza voler cadere in sciovinismo l'aspetto un po' dove sottolineo spesso italiana era per dire non abbiamo solo la pizza ecco dovete anche mettervi nei panni di chi insomma eh vive fuori d'Italia e vuole in Italia c'è anche eh ci sono anche cose eh di carattere intellettuale e spesso nascoste ma ci sono e e quindi eh ho trovato Bodei come sforzo di sintesi un punto di partenza utile eh quello che eh ho trovato interessante di Bodei è questo eh usare l'umanesimo eh come categoria dello spirito come ideal tipus cioè lui fa esempi macchiavelli eccetera ma in realtà e dice eh ricorrendo non in quella voce lì ma è una sorta di c'è un'allusione lì un autore che lui conosce molto bene eh Ernst Bloch questa categoria che Bloch ha sviluppato ha introdotto da prima nella sua monografia su Thomas Müster e poi ha sviluppato altrove che ha questa bella parola tedesca un gleichzeitigkeit no la non contemporaneità il pensiero italiano sarebbe caratterizzato da questa non contemporaneità non ha mai abbracciato l'agenda della modernità in parte perché non c'è riuscita in parte perché era in ritardo in parte perché non voleva in parte perché non c'erano le le condizioni istituzionali ma questo ritardo questo handicap si è dimostrato una sorta di forza in un momento in cui una certa agenda della normalità è entrata in crisi e essere moderno non è più di per sé un valore anzi viene visto come problema allora chi non aveva mai eh aderito al non era mai stato un alfiere di quello era stato in disparte magari eh perché non era stato capace si trova adesso in una posizione involontaria magari di vantaggio e magari senza neanche rendersene conto e lui non cita eh il tema della microstoria ma è molto coerente con gli esempi che fa eh Guicciardini il particolare viene subito in mente quello tuttavia la eh un punto che a me pare importante è quello eh quale insiste Ginzburg che in realtà bisogna mettere a frutto tutto ciò che noi possiamo trarre da eh global history e da eh fare un'edizione critica tempo addietro una parte cospicua del tempo lo sapete bene era presa dall'individuazione delle fonti cioè l'apparato delle fonti prendeva tantissimo tempo continua a prendere tempo ma è innegabile che la presenza di database come brepolis eccetera ha accelerato straordinariamente questa ricerca anche una cosa se si trova ora questo è un caso dove nessuno legge questi testi per intero però lì c'è una uno sviluppo che permette di guadagnare tempo il problema è il tempo che si guadagna bisogna saperlo investire bene perché se il tempo che si guadagna lo si spreca subito in quella stessa cosa che è una rincorsa e allora può essere un rischio quindi la slow reading in questo senso complesso non è affatto una nemica di una un approccio più sintetico eh in cui si cerca di far capitale di chi ha già fatto dei regesti eccetera anzi si valorizzano questi regesti ma diventa un test ovviamente singolare eh però come test di falsificazione può sempre essere utile proprio anche per testare quei database cioè la la ricerca microstorica può diventare un utile eh diciamo gradiente d'errore di questi lavori più sistematici di raccolta perché se io in un caso specifico noto che c'è questa discrepanza allora c'è eh si può instaurare una revisione dell'insieme quindi eh la microstoria non è questo è la critica che viene fatta eh a voi vi fate la cosa sul vostro autore che non conosce nessuno e fate l'edizione del testo non interessa nessuno non ha non c'è la big idea poi però le big idea eh siccome eh il vuoto non è consentito in queste cose uno sfondo ci va per tornare alla prima immagine quella del primo piano il tema lo sfondo uno sfondo si crea se non c'è uno sfondo articolato c'è magari uno sfondo grigio nero ma c'è comunque e quindi magari lo sfondo è come queste storie universali alla Harari dove non appena uno ci mette un po' il naso dice ma qui come il responsabile oltretutto avete probabilmente sentito che nelle edizioni nelle diverse lingue ci sono versioni diverse no perché lui visto che intanto lo scopo era di dare uno sfondo se eh l'edizione in lingua russa preferisce qualche colore arancione anzi perché non accontentarli e quindi ci sono veramente variazioni eh da un'edizione all'altra per dimostrare anche un po' la probitas no della dell'autore grazie Andrea questa è la selva delle grazie molte ehm grazie per la presentazione e avrei due domande brevi la prima riguarda l'altra faccia della medaglia di quello che avevo capito all'inizio essere un po' il fulcro che sarebbe lo slow writing o lo slow producing e il problema dell'identità nel senso che se si produce a un tempo richiesto da altri eh che fine fa la mia voce nel momento in cui scrivo considerando che l'idea le le connessioni e quello che io voglio eh esprimere emerge con il tempo e al mio tempo e non a quello di un altro e l'altra parte invece riguarda un concetto che ha ehm menzionato che è quello del giusto tocco e come magari può anche collegarsi con l'idea della produzione perché nel momento in cui io produco produco per altri e decido anche per loro a che tempo magari vorrei che loro leggessero qualcosa e come posso capire qual è il giusto tocco per approcciarli o se loro devono adattarsi al mio allora ehm il la prima domanda è molto complessa eh tra le la bibliografia che ho citato Walker è quella che più direttamente affronta eh l'ostacolo istituzionale che vi oggi nel nella produzione accademica ad un lavoro più di fondo perché c'è una domanda che bisogna e quindi fino a un certo livello ci può essere una negoziazione dice lei ma a un certo punto bisogna anche avere la possibilità di fare una contestazione perché la negoziazione ci rischia di portare sempre più in un'altra vita questo è un problema complesso su più livelli e eh sono d'accordo che il tema del straw writing e si lega vi è però il un paradosso in una delle lettere provinciali Pascal si scusa per la lettera un po' lunga adesso cito a memoria eh ma dice qualcosa del genere eh pardonnè ma pardonnè questo è molto interessante e il quick writing produce tanto paradossalmente mentre lo slow writing non è detto che produca necessariamente e io non sarebbe un discorso lungo ma sicuramente sono d'accordo che quello è un aspetto da da rifletterci il tema che era già implicito nella domanda di Irene poi non ho non ho risposto questo aspetto che Bodei sottolinea che in Italia la filosofia ha sempre avuto una dimensione civica che sia il caso di Croce è emblematico non ha un'educazione universitaria ha fatto un liceo sicuramente era una persona di cultura eh non si può negare questo scriveva per un pubblico chi era abbonato alla critica non erano tantissimi ma erano una certo tipo di ehm persone con una competenza interessi eh letterari filosofici ma non erano filosofi di professione anzi filosofi di professione la guardavano con un certo dispinto ma questo è pur vero in generale e mi domando eh lì vi è un rapporto vitale che rischia di eh quello tra l'autore e eh il lettore eh la famosa frase di Borges no? Eh i i grandi autori sono creati dai loro lettori è è un paradosso ma indica un punto ora eh mi chiedo fino a che punto eh è possibile sopravvivere eh a pubblicare un certo tipo se eh la pubblicazione è praticamente fatta solo per chi la fa e non più per chi la deve leggere cioè vi è eh si potrebbe argomentare che vi è tutta una serie di pubblicazioni specialiste su rivista la cui prima motivazione è eh di essere pubblicate per l'interesse dell'autore e cui la eh la fruizione da parte di un lettore che non sia lo specialista che lavora sullo stesso tema è direi fuori dall'obiettivo eh questo se rimane regionale non è un problema ma se divene un problema generale crea un problema direi politico di ampia natura perché poi il vero la vera divulgazione è quella che non divulga ma che fa ricerca ma una ricerca accessibile con livelli diversi eccetera eccetera questo è un problema credo eh e anche qui mi permetto di dire forse la situazione italiana potrebbe essere meno disastrosa che altrove ehm nel senso che vi è ancora un pubblico non necessariamente di studenti di filosofia o di professori di filosofia che può avere eh interesse a leggere un dialogo di Platone anche con un commento un attimino che lo indirizzi e e questo può può essere interessante sicuramente vi è il problema che per essere effettiva la comunicazione deve semplificarsi però la semplificazione può essere fatta in un modo microistorico scaltrito e molto responsabile anche se richiede molto tempo e molta energia oppure può essere fatta in maniera irresponsabile e chiaramente questo crea due readerships completamente diverse con un effetto di feedback completamente anche di controllo completamente diverso. Sì intanto grazie per la molteplicità di spunti e di riflessioni che eh la tua lezione ci ha eh ci ha suggerito. Vorrei due eh due questioni da sottoporti ehm che sono tra di loro distinte ma in qualche modo direi anche direi collegate spero almeno che possano apparire collegate. La prima è eh legata alla questione della eh lettura lenta eh in campo musicale no? L'esempio appunto della performance. Eh qui mi pare che ci sia eh che sia un esempio molto eh utile interessante forse per raggiungere un terzo elemento no? Tra il lettore e il testo hm che è eh quello che potremmo chiamare il supporto hm? Eh il me il mezzo il medium eh nel caso cioè facciamo alcuni un facciamo un esempio classico almeno prima che da profano mi viene in mente di eh lettura ehm lenta eh dal punto di vista della performance musicale no? Nel novecento eh la lettura di un von Karajan no? Esempio forse paradigmatico di lettura lenta da un punto cioè no di di eh slow slow reading. Ebbene eh von Karajan nel momento in cui eh abbiamo il passaggio dal eh dal supporto eh del 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 vinile al al cd eh registra nuova cioè eh riproduce nuovamente tutte le sue stesse incisioni con un effetto di ulteriore rallentamento rispetto a prima e con la creazione di quel famoso effetto alone che tanto eh caratterizza le sue le sue interpretazioni. Segno e al contrario vedete un esempio di lettura eh di fast eh reading no? Il classico esempio cioè anche qui eh scolastico diciamo Toscanini è chiaro che era un tipo di lettura fortemente anche condizionato dal supporto del dal supporto di di riproduzione no? Il settantacinque giri e poi il passaggio al trentate che richiedeva una lettura una lettura veloce altrimenti la riproduzione sarebbe stata molto molto complicata. Allora la mediazione del supporto è una mediazione estremamente rilevante eh che in che in qualche modo poi poi certamente si crea uno stile si crea un modello ma in primo luogo c'è la mediazione c'è anche la mediazione del supporto. Quanto allora ti chiedevo intanto quanto incide il supporto nella nella tipologia di nella tipologia di lettura e l'altra l'altra questione che potrebbe essere letta al contrario rispetto a questa a questo interrogativo ma in qualche modo mi pare collegata eh tu sei partito dalla perdita potremmo dire dalla deplorazione della perdita dell'arte del riassunto no? Insomma come eh per parafrasare Benjamin no? L'arte della narrazione al tramonto, l'arte della poesia al tramonto, l'arte dell'arte del riassunto al tramonto no? Eh anche qui probabilmente eh e hai fatto un esempio molto interessante invece di come far apprendere alla macchina eh la possibilità del riassunto attraverso riassunti umani fatti bene. Eh la domanda è sempre in relazione al supporto eh però qui vale l'effetto vale il l'effetto al contrario cioè la macchina è in grado di imparare attraverso il sistema no? Eh dei dei big data eccetera la macchina è in grado di imparare a un certo tra virgolette insomma comunque a recepire no? Eh e quindi a modificare la sua performance ma se noi ci abituiamo a leggere sempre e solo riassunti questo ci ci eh insegna a fare riassunti cioè il il probabilmente anche qui il supporto al contrario no? Eh quindi in qualche modo un un prevalere di un certo tipo di lettura su un tipo di supporto non incide eh sulla sulla sul venir meno della eh della capacità soggettiva della cultura soggettiva per usare l'espressione simmeliana nel produrre nel produrre riassunto cioè ecco quindi anche qui il rapporto tra eh tra lettore testo e e e supporto insomma visto nelle due nelle due varianti. Allora in questo eh Kiwi eh non che ha una formazione lui il massimo che concede diciamo ad un approccio eh alternativo è eh John Dewey la nozione di esperienza che poi non definisce meglio però dice che in questa lettura come performance eh è essenziale l'esperienza del lettore e l'esperienza vuol dire di conoscenza acquisite ma come queste sono ordinate eccetera quindi questa conoscenza impatta su questa performance così come un direttore d'orchestra di ampia cultura musicale che conosca Menadito lo sa interpretare in un modo diverso dal maestro di banda che conosce le note perfettamente la loro durata ma è in grado di dare una stratificazione ad un'interpretazione come perché poi non è tanto il tempo della performance udita ma della preparazione e della scelta di quel tempo lì che può essere breve ma che in realtà è considerato giusto in quel caso lì ci di bidacche molto lento e l'altro può essere veloce ma non è detto non sia giusto perché è veloce ecco questo ehm quello del io sarei un po' restio nell'usare la parola imparare anche se è vero che ormai eh learning eh perché se l'imparare presuppone una comprensione di ciò che si impara un'intelligenza io tenderei ad escluderla da questi programmi non imparano nulla ma sono in grado di riprodurre e avere un effetto eh eccellente e per certi versi migliore ehm non si può dire che la lavastoviglie ha imparato dalla massaia perché usa un altro sistema usa la massaia non ha mai usato getti d'acqua eccetera però l'effetto finale dei piatti puliti spesso una lavastoviglie eh fatta bene può raggiungere un risultato che è meno rotture di 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 posate che non la lettura quindi eh io direi c'è un risultato equiparabile o migliore ma il processo che porta quel risultato è di natura essenzialmente diversa il problema è che per l'essere umano è attraverso la comprensione e l'intelligenza che si arriva a quel risultato e allora rimane il problema non è che questo c'è anche una letteratura ormai su questo non è che questo fa perdere una capacità eh e credo credo che si possa non ho una risposta ma l'ultima parte della tua domanda credo eh della tua riflessione credo tocchi un punto fondamentale cioè la macchina usiamo imparare tra virgolette la macchina impara fa quello io poi uso quello come prodotto ma non io non ho più io non uso io non imparo come la macchina ripetendo ripetendo anche perché le mie capacità ripetitive sono nulla in confronto a quelle di una macchina il mio modo di imparare è diverso però non lo esercito più e quello effettivamente è un punto molto sensibile su cui non entro ma mi piace che sia stato messo in luce così grazie professore intanto per la splendida lezione avrei due domande da farle lei ha parlato appunto di un cambio della comunicazione quindi di un fast reading e di un slow reading mi è venuta in mente anche tutta una tradizione nata probabilmente nel settecento ma che poi ritorna anche in dice in quella lettura non è soltanto slow ma è anche ripetuta quindi ciclica quindi non soltanto lenta ma il testo deve essere ripetuto 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 riletto appunto vi parla di ruminare il testo e quindi ritornare eh continuamente sullo stesso testo e e perché doveva esserci questa lettura ciclica almeno per una tradizione tedesca di settecento ottocento perché nella ripetizione ciclica della lettura l'essere umano si forma in quanto proprio essere umano quindi un umanesimo con la maiuscola possiamo dire e allora mi viene in mente se la domanda se oltre a un cambio di comunicazione c'è un cambio del lettore dell'utente quasi vorrebbe mi verrebbe da dire lei parlava all'inizio di questi riassunti necessari per i professionisti ehm quindi forse appunto nel mondo anche nella società nel mondo del lavoro non è più richiesto questa formazione proprio umanistica nel senso di un essere umano formato tu cura eh ma deve appunto essere soltanto un utente e questo mi viene in mente la prima parte della sua relazione poi seguendo la pessimismo aumentava perché insomma dopo si è passato al mondo accademico quindi viene quasi da pensare che anche nel mondo accademico eh non ci sia più questa necessità di umanismo forse per paradosso sia necessario ma non valutato forse probabilmente questa è la mia prima riflessione ehm e la seconda è più una forma di domanda si parlava appunto il testo è nella performance e quindi diciamo così nell'atto del soggetto che usufruisce del testo in qualche modo che lo che lo suona se vogliamo e mi viene in mente che però in questa interpretazione però si dimentica che anche si parlava di formato della performance ma il formato anche del testo cambia e con formato intendo proprio il pdf banalmente le capacità di apprensione dell'essere umano rispetto a un libro stampato sulla carta e per esempio un file nel semplicemente anche in un e-book reader che dovrebbe essere una coppia perfetta di un libro in realtà le capacità conoscitive non sono le stesse quindi mi domando se questa idea appunto di performance non non vada ricalibrata anche in questa direzione ecco grazie mille grazie a lei parto da questa seconda cosa eh io non ho sottolineato più di tanto questo aspetto ma ehm nella letteratura vi è un'insistenza sul fatto che questo eh questa performance richiede un embodiment cioè la voce non è solo un senso in più ma la voce è un aspetto di embodiment di qualche modo incarnazione della lettura così come lo scrivere manualmente e eh e quindi aiuta l'interiorizzazione cioè c'è l'esternalizzazione della memoria quando io non memorizzo più perché tanto so dove c'è la cosa e c'è l'interiorizzazione l'interiorizzazione eh è quello che viene visto come essenziale in questo e che rischia di essere di essere smarrito ehm eh quindi una certa l'imparare a memoria ad esempio non tanto per la proesse di recitare delle cose ma perché un certo tipo di interiorizzazione è fortemente aiutato dall'apprendimento a memoria senza considerare eh che poi eh questi spezzoni eh che rimangono nella nostra memoria sono anche dei modi in cui riusciamo poi a leggere situazioni attraverso la citazione che ci viene era la battuta di quel signore anziano che non aveva mai letto una parola di Shakespeare un inglese e che i suoi nipoti lo portano finalmente al teatro a vedere Amleto e quando esce sì sì sarà un grande poeta ma questo Amleto è pieno di citazioni perché effettivamente lui aveva quasi conosceva quasi tutto Amleto senza averlo mai letto quindi c'è questo aspetto nella nella conversazione e eh l'altro l'ultimo aspetto sulla nota un po' eh negativa o pessimistica io credo che ci sia un problema di prendere le misure abituarsi e dopo di che eh però è chiaro che eh l'accelerazione con cui certe cose avvengono è tale che eh non è così facile abituarsi eh faccio un esempio è aneddotico non risponde certo alla sua domanda ma fa capire ehm abbiamo un nuovo sistema da da un anno a questa parte in cui i telefoni dei nostri uffici a Lovagno sono automaticamente collegati col computer con un sistema equivalente a Skype molto eh Skype molto utile perché telefonate internazionali che prima sarebbero adesso sono facilissime eccetera unica condizione il telefono non funziona se il computer non è acceso e un giorno eh ricevo una telefonata dalla segretaria del dipartimento e dice professore lei ieri non era in ufficio no ieri io ero qui sono stato via per la pausa pranzo ma sono stato qui tutto il giorno no 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 lei non era in ufficio perché io le ho telefonato ma io stavo leggendo e ma come non al computer no eh esistono ancora dei libri cartacei e il caso vuole che stavo leggendo un libro e lei ha subito capito ma il fatto che per lei fosse ovvio che essere in ufficio lavorare vuol dire essere al computer e quindi avere il telefono eh attivato e fuori da queste condizioni era uguale a essere assenti non è che lo facesse per cattiveria era una cosa ovvia secondo uno standard questo è eh non è il supporto che si diceva prima ma sono le condizioni in cui il supporto è presente e che coartano in ci sono modi per però è chiaro che uno si deve anche abituare a queste condizioni i professionisti che eh usano i riassunti per guadagnare tempo poi uno si domanda tutto sto tempo dove lo impiegheranno no eh perché hanno sempre meno tempo e allora eh curioso anche quello però ehm questo aspetto non non direi di avere un atteggiamento apocalittico nel senso di chiano del termine ma credo che questo vada preso sul serio cioè oggi eh non prendere sul serio chat GPT come una realtà che viene ormai usata da milioni di persone a mio avviso è superficiale perché non fare i conti con la realtà che c'è o addirittura come qualcuno propone ehm mettere dei limiti che non venga utilizzata ma tanto poi verrebbe utilizzato ugualmente quindi quella è la realtà vedere qual è l'alternativa compatibile complementare che mantiene viva un eh un tipo di interiorizzazione che poi rende possibile usufruire appieno di questo perché questo può fare guadagnare tantissimo tempo se uno lo usa in maniera autonoma indipendente perché sa cosa usare sa quando fermarsi quello che è curioso c'è un bel libro di Paolo Zellini eh sugli algoritmi recentemente uscito da Delphi e eh molto interessante e eh lui dice che c'è una cosa che che l'algoritmo per definizione non può fare fa un percorso e poi si ferma alla fine ma non può fermarsi a metà prendere una pausa e poi riiniziare ecco questo fermarsi e riiniziare è assolutamente interrompe il programma procura eh la falla ecco però questo in saper interrompersi saper riiniziare sono cose molto umane in fondo e coltivarle e avere la consapevolezza che siamo capaci di interrompere siamo capaci di iniziare che forse alcuni di noi rischiano di eh pensare di non essere più in grado e questo è forse un rischio nella percezione di sé non nella realtà ma poi nella percezione che noi abbiamo di sé. Ecco Andrea ancora una domanda del professor Laudisa e poi del professor Natale e poi direi che chiudiamo perché l'ora si fa. Mi associo ai ringraziamenti per la relazione veramente molto ricca. Volevo tornare un attimo su questa teoria della performance e chiedendomi cosa diciamo qual è la performance di questa teoria eh quando ehm la si applica no eh a un testo filosofico nel senso che secondo me questa è molto calibrata su testi letterari eh allora eh da come tu l'hai descritta questo momento insomma della performance è fatto di tanti fattori che comunque vanno tutti nella direzione di un'estrema soggettività della 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 nozione no? Eh allora quando il testo è filosofico eh sia pure ben consapevoli che il testo ha ha una serie di oscillazioni molto forti siamo tuttavia abbastanza affezionati e secondo me facciamo bene all'idea che esistano interpretazioni migliori di altre no? Anche se non esiste l'interpretazione però c'è una scala una metrica di qualche genere. Allora come esiste un modo per tenere insieme queste due cose oppure in altri termini che rapporto c'è tra questa idea di performance e l'idea un po' più classica di interpretazione di un testo filosofico secondo categorie insomma più più grazie. Allora eh lì è vero che eh Kiwi lo dice anche esplicitamente all'inizio lui pretende di avere una teoria generale ma poi gli esempi che fa eh Jane Austen eccetera è sempre di fiction di un certo tipo quindi questo è senz'altro vero che si applica meglio di anche se lui ha un claim più ampio sul fatto del questo credo si applichi anche nelle arti eh io credo che si possa dire eh che una esecuzione del Requiem di Verdi è superiore superiore cosa significa? Più vicina a l'intenzio operis più che non dell'autore perché al limite l'autore non era neanche pienamente consapevole ma l'opera nella sua eh come è stata concepita e scritta ha un suo eh significato e c'è una capacità di portarlo eh maggiormente in evidenza o di tradirlo con dei gradienti. Eh se questo lo si ammette a sua volta in un quadro che può essere articolato eh in gerarchie una specie di eh scatole mi viene in mente quell'esempio della porta del portone voi sapete questi portoni grandi dove c'è poi una porta più piccola che si ha no Wittgenstein parla nel certainty dice eh i cardini di una porta non sono necessariamente fissi perché i cardini della porta piccola quando io apro quella grande si spostano anche loro però fino a che io passo per la porta piccola devo considerare questi cardini fissi poi in un quadro diverso li considero mobili ora e quei criteri che eh su cui possiamo discutere ma ci ci può essere un argomento più efficace o meno per convenire che danno una gerarchia sono criteri assoluti atemporali o possono essere visti senza cadere in un facile relativismo eh ma possono essere visti come loro stessi brutto di un'evoluzione che però può dare conto della sua evoluzione non che ah sono cambiati è un altro tempo no sono cambiati per queste ragioni e quindi ad esempio avere un'interpretazione ehm eh che secondo standard eh di un altro circolo ermeneutico era considerata eh idiosincratica o che viene invece rivalutata come capace di catturare perché in fondo lo si dice sempre da un punto di prospettiva io credo che sia possibile salvaguardare un'esigenza di sana oggettività e mantenere questa plessibilità in cui è possibile eh storicamente leggere gerarchie diverse in una maniera intelligibile ma sempre da un punto di vista ovviamente che poi non pretende di essere assoluto ma che in quel momento dà conto delle sue io credo che eh con queste avvertenze questa idea può essere generalizzata però con una con un problema cioè un testo scritto da chat GPT 20 che adesso li fa ancora io lo leggo lentamente ho questa esperienza di performance cioè come come perché gli esempi che fa Kiwi sono esempi autoriali di libri allora lì mi domando e qui ricorro molto in maniera molto inattuale a Croce Croce diceva no un'opera filosofica in quanto è un'opera è definita tra le altre cose dal gradiente di resistenza eh della riduzione a idee fonti già presenti cioè se un'opera filosofica io sono in grado di ridurla a ciò che gera già prima è un'opera nel senso empirico ma non è un'opera filosofica è un centone se invece quell'opera la riduco trovo le fonti eccetera ma ha un gradiente di resistenza che rimane tale posso trovare un'individualità mi domando se un criterio del genere con difficoltà dell'applicazione non possa essere anche applicato agli scritti filosofici e quindi tenere valida la lettura della performance con i cavea per l'opera in questo senso senza però pretendere da ogni testo di riflessione filosofica o di uno fa una distinzione concettuale cioè non è che debba può essere più o meno felice punto eh c'è questo problema qui dell'opera d'arte o di filosofia beh di nuovo grazie davvero perché la tua lezione ha toccato una serie di problemi che sono al centro del nostro lavoro quando si fa lo storico della filosofia e sono cose su cui capita di pensare molto spesso anche se non capita molto spesso di parlarne i punti sarebbero tantissimi alcuni sono stati sollevati io vorrei prenderne uno solo il fatto di essere italiani allora lo stile italiano anche nel fare storia della filosofia o storia della filosofia antica a un certo punto ci viene naturale e ci viene naturale anche per la storia della nostra formazione cioè abbiamo fatto storia della filosofia non abbiamo fatto logica non abbiamo fatto logica matematica e quindi ci viene un certo modo di affrontare i problemi che va benissimo però poi capita quello che è capitato a me per esempio quando la prima volta ho cominciato ad andare fuori d'italia era l'università di liverpool che non è proprio il top però c'era tony long a quel tempo ed era molto interessante vedi aristotele trattato come un compagno un collega di di ripartimento e vedi nusbaum e put patnam che sono d'accordo nel dire che aristotele ha qualcosa da dire sul mind body problem anche anche oggi il problema è che devi sapere che c'è un mind body problem e questo significa studiarci un sacco di roba contemporanea oltre che la storia e tutto quanto quindi è un po difficile dove voglio andare a parare voglio andare a parare a una proposta di metissage cioè tutto sommato bisogna riuscire a parlare con le altre tradizioni non soltanto dire voi siete anacronistici la vostra cosa non funziona storicamente così perché loro ti dicono ma sì in fondo sarà storicamente così ma a me interessa il mind body problem non mi non mi interessa chi era la moglie di aristotele e quindi in un certo senso bisogna capire i problemi e gli interessi delle altre tradizioni apportando poi una prospettiva storica nella misura in cui è utile non soltanto per far sfoggio di erudizione insomma fare un po come matteo ricci che si vestì da da mandarino per raccontare aristotele e epiteto ai ai cinesi credo che questo sia un modo fecondo di interloquire perché bisogna dare un po ragione agli altri perché te la diano almeno io la vedo così sicuramente ed è proprio noi abbiamo parlato prima del transfer culturale quello è un esercizio di transfer cioè essere ancorati in una tradizione ma saper come come la si traduce la traduzione è sempre un transfer ma c'è un modo c'è una traduzione buona c'è una traduzione cattiva c'è una traduzione ci sono gradienti anche lì io posso dire questo transfer è felice perché passa ciò che voglio che passi questo transfer aggiungo delle cose che vengono percepite come note di informazione storica ma vabbè lui le sa io non le so ma alla fine I'm shorter than she is or is vi è poi un problema sempre guardando al quadro diciamo così alla sociologia della dell'insegnamento della filosofia se si guarda il mondo anglosassone non tanto nel Regno Unito ma proprio negli Stati Uniti o Canada e si nota che voci che dal mio punto di vista sono voci molto interessanti del pensiero contemporaneo non sono figure spesso con una preparazione filosofica al punto di avere dottoratità ma che non insegnano tecnicamente nei dipartimenti di filosofia insegnano nei dipartimenti proprio per la struttura partimenti di giurisprudenza di economia di classics a volte di italiano a volte o di storia e questo complica o può semplificare ma lì c'è una doppia traduzione c'è la traduzione di tradizioni di lavoro diverso ma anche di tradizioni che hanno suddivisioni diverse nel nostro sistema accademico in altri sistemi accademici ci sono effettivamente posizioni che sono comprensibili all'interno di dei dipartimenti di filosofia ad esempio via alcuni temi problema della cittadinanza sono davvero svolti in maniera molto diversa e questo è un ulteriore transfer che questa volta non è più tra l'italiano che va là e quelli che sono là nel dipartimento di filosofia ma è l'italiano che va là nel dipartimento di filosofia se poi viste anche le sue inclinazioni vuole parlare con i colleghi di storia eccetera non è la storia che è diverso questa è una cosa importante ne parlavamo oggi mi spiace ripetere una cosa che ho detto ma forse può essere un elemento cui sarei interessato di sapere vi è da un lato una retorica crescente stucchevole a volte sulla multidisciplinarità o la interdisciplinarità che a poco senso se non c'è in ogni disciplina una solido ancoraggio poi però nelle valutazioni nel nei settori disciplinari nelle riviste eccetera molto spesso si alzano delle bandiere rosse puramente formali per dire sì sì questa è una cosa interessante ma non è rilevante qui non è rilevante là come se a un certo punto uno potesse tagliare ciò che è l'argomento filosofico nella sua purezza e lasciare da parte tutta una serie di informazioni che invece vanno poi pubblicati in un articolo privo di ogni ambizione concettuale in una rivista magari di erudizione questo è anche un po un rischio perché poi chi mette insieme i pezzi se li si dividono già in questo modo certo i pezzi sono tutti là però ci va ancora qualcuno che ripercorra e unisca le cose un caso emblematico non c'entra con la filosofia ma è comunque curioso tra l'altro trento ha una bella tradizione in quel in quel campo e la filologia romanza quando dell'europa non esisteva tra fino ottocento inizio novecento fu la creazione di questa disciplina che una disciplina multilingue fondata ora è una disciplina esiste il nome ma filologi romanzi con l'approccio in fondo ancora un segre aveva ma se andiamo indietro Auerbach o Curzius non se ne trovano più non esistono più è proprio un tipo accademicamente obsoleto questo è curioso perché avviene nel momento in cui su altri piani si parla dell'importanza delle radici comuni europee dell'integrazione non c'è più nessuno che sia davvero a suo agio con le lingue romanze nel medioevo latino e nascita questo non c'entra con la filosofia ma è ancora un caso dove le decisioni settoriali hanno a loro volta un impatto sulle tradizioni di studio che poi vanno vanno a seguire e quindi la libertà che è innegabile che oggi si dà anche attraverso progetti che sono sempre aperti in più direzioni può essere una libertà illusoria se non non si non si concreta poi in indagini che abbiano un loro valore all'interno di ogni disciplina quindi anche per parlare del mind body problem ci deve essere una capacità di dare un contributo di capire innanzitutto il problema come si pone quali cose sono rilevanti e quali non sono rilevanti e così via e quindi è un discorso indubbiamente complesso e mi pare che se c'è buona volontà e ho anche dei casi diciamo a cui posso pensare una formazione italiana e non sia troppo chiusa orgogliosa della sua di sapere un po me mi ricordo chiudo con questo un giudizio nel bellissimo necrologio di rostoviev scritto da momigliano lui a un certo punto dice che rostoviev prima di andare a yale passò da oxford esule dalla russia e lì non si trovò bene perché lo trattavano come e momigliano dice non si rendeva conto rostoviev che lui era un grande storico geniale ma il greco quelli di osu lo sapeva meglio di lui e quindi lui doveva prendere atto che doveva capire che secondo certi standard lui non era quello da riverire ecco e qui l'italiano deve capire che lui non va riverito perché magari riesce a tradurre un testo in una lingua classica senza bisogno del dizionario e capisce subito perché magari ci sono altre cose però se c'è questa apertura e questa flessibilità io penso che il dialogo possa essere proficuo rimane anche il cavea dall'altra parte non sempre vi è la disponibilità di quella tradizione è a fare un vero confronto spesso aristotele nella stanza accanto e basta cosa me ne frega se aveva la toga o non aveva la toga ecco e di fronte a quello è anche poi difficile interlocutore. Scusa Andrea ancora una breve domanda di uno studente ma mi sembra il miglior modo. Allora io volevo appunto prima stavamo parlando con alcuni amici su quella che è la situazione un po' della storia dell'insegnamento della filosofia alle superiori nelle scuole superiori e ci stavamo interrogando su questa cosa cioè il fatto che tante volte la storia della filosofia appunto le superiori viene insegnata attraverso una storia della filosofia che però rischia di non dare senso della continuità storica e questo è un paradosso perché rispetto magari ad altri paesi troviamo che c'è una tematizzazione appunto in senso cronologico quindi potremmo dire storico della filosofia però ogni tanto sembrerebbe che quella continuità storica potrebbe essere maggiormente espressa oppure palesata appunto se si trattassero determinati magari argomenti attraverso nuclei tematici forse perché appunto si riconoscono dei problemi delle problematiche dei temi fondamentali o piuttosto ricorrenti che verrebbero trattati con uno sguardo che passa da un pensiero pensatore all'altro così però non in questo senso cronologico che tante volte secondo noi rischia un po' di non dare davvero un senso di questa continuità anche umana appunto di certe questioni quindi questo qua era allora io per quanto riguarda l'insegnamento nei licei devo l'unica mia fonte diretta di informazione sono i miei ricordi personali e purtroppo si stanno allontanando rapidissimamente indietro nel tempo questi ricordi perché gli anni passano e quello che ho sempre trovato deplorevole in tempi in cui ero studente è che vi fosse questa unione di storia e filosofia se uno era fortunato aveva un professore laurato in filosofia che insegnava entrambi ma capitava laurato in storia su un argomento che doveva insegnare anche filosofia che si vedeva benissimo non aveva nessun interesse ma neanche la preparazione e purtroppo quello sul percorsi tematici che permettono questo sono anch'io d'accordo che quella sia percorsi tematici da allora anche su temi molto precisi trasversali però è il discorso che un sentiero molto preciso in una foresta può diventare estremamente istruttivo se io sono informato dove sia la foresta sulla come e su cosa sono le cose che non sto visitando cioè avere l'idea che il mio percorso mi mostra diverse ma è una scelta in altre parole percorsi non canonici sono bellissimi ma ci va il canone allora il problema è io mi pongo la domanda primo se sia possibile io ho dei dubbi che sia ancora possibile ma sicuramente mi pare che il canone o anche i canoni siano un po' saltati e ad esempio dare per acquisito in una lezione l'eterno femminino o la cicuta si rischia di gente non capisca proprio di cosa si parla o che intende in maniera completamente e quindi l'insegnamento in parte è anche una necessità perché quanto più c'è un sistema che si apre a scambi no e a percorsi formativi che non sono tutti in un posto ma prevedono anche spostamenti è chiaro che ci sono background differenti un modo facile è quello siccome i background sono differenti andiamo ad un minimo comune denominatore che davvero è minimale e che richiede saper leggere e scrivere non fare riassunti e però questo è molto impoverente non c'è più il canone contro il quale magari in maniera polemica ma sempre molto costruttiva e uno può fare questo percorso dove l'attualizzazione che mi pareva un'esigenza nella domanda cioè vedere la continuità la la vitalità che uno non fa un'archeologia per andare a sapere cosa ha pensato un altro che saranno pure a fare i suoni ma perché questo pensiero ha un'attualità però vi è una una sorta di tema e sfondo cioè qui lo sfondo è un canone è un canone che se non è più garantito bisognerebbe in qualche modo costruire non mi pare adesso ci sia nella capacità la volontà politica ma sicuramente non manca una visione sinottica che sola sarebbe necessaria per avere una scelta di questo tipo e quindi Grazie.